Con la racchetta per fare un po' il punto del lavoro fatto, che estate è stata e che bilancio si può tracciare? È stato un anno molto molto caldo, questo sì lo possiamo dire in tutti i sensi. Un anno che ci ha visto impegnati già dai primi mesi, quelli che di solito c'è la neve, ci sono le piogge invece, da quest'anno siamo andati già a spengere, abbiamo fatto i nostri primi interventi già da gennaio. Finita la stagione degli incendi è quella che ci impegna di più, comunque sia poi all'inizio della nostra fase, diciamo così, autunnale e invernale, dove mettiamo, tiriamo fuori le attrezzature per quello che riguarda la protezione civile, quindi emergenze di carattere idrologico e idraulico, emergenze neve, emergenze vento, ma questo nel senso come si è visto anche quest'estate, con le prime piogge e tutto, siamo stati subito operativi anche in quello, quindi togliamo la divisa per l'antincegno e mettiamo quella di protezione civile e siamo sempre operativi tutto l'anno. Assessore, questo è molto importante, noi ci auguriamo che questi eventi non ci siano, però la preparazione e la prontezza sono essenziali. È fondamentale e io voglio ringraziare l'associazione La Racchetta perché in quest'anno specialmente ha portato avanti un lavoro veramente delicato e veramente importante. Già da maggio erano stati effettuati 13 interventi in un periodo che non è quello ad alta intensità e quindi un periodo in cui in genere non ci sono queste tipologie di difficoltà. Quindi un ringraziamento. In questi due anni ho visto che c'è tanta competenza, ma c'è anche tanta volontà di crescere e tanta volontà di portare avanti. Quindi tutto quello che come amministrazione abbiamo dato ho ricevuto in cambio con il lavoro sul campo. Quindi grazie. Dopo ci mandiamo magari...